Chiara Ferragni è al centro dell'attenzione anche durante le sue vacanze. Attualmente a Roma la fashion blogger ha trascorso un weekend piacevole con gli amici di lunga data Angelo Tropea e Veronica Ferraro. Durante la giornata di relax nella capitale hanno gustato piatti tipici romani e si sono divertiti in villa borghese. Durante un momento di scherzo Veronica Ferraro ha ironizzato su Fabrizio Corona, noto per le sue rivelazioni nel podcast Gurulandia. Nel video diventato virale Veronica imita il tono drammatico di Corona, facendo delle esclusive divertenti su Chiara Ferragni. Questo gesto autoironico ha suscitato l'ilarità dei fan, soprattutto considerando il momento delicato che Chiara sta vivendo a causa dello scandalo balocco e della separazione da Fedez. La reazione di Fabrizio Corona non si è fatta attendere. Dopo aver svelato presunte infedeltà di Fedez nel podcast, ha proposto ironicamente a Chiara di apparire nel programma offrendo le 200.000 euro come compenso. Vieni a Gurulandia, ti do 200 cap e ti aiuto a risolvere i tuoi problemi, ha scritto Corona, riferendosi in modo sarcastico alla situazione attuale dell'influencer. Questa dinamica social tra Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e Fabrizio Corona ha divertito i follower e ha aggiunto un tocco di leggerezza in un periodo complicato per la fashion blogger. La situazione potrebbe evolversi ulteriormente con la possibilità di una partecipazione di Chiara al podcast di Corona per discutere delle storie.